... ... ... chi la lascia i concorrenti lotta per il comando con Picasso che attacca a Perfect Step a fondo i due in lotta all'imbocco della curva per conquistare la leadership rientra a Perfect Step con 200 metri in 13,7 allora Picasso si adegua mentre la terza posizione è preda di Parombred a precedere Pick and Go mentre lontano Publilio Seste i 400 metri di corsa che si esauriscono in 32 ha moderato l'andatura il leader che davanti alle tribune comunque conduce il gruppo si ricompatta e nell'ordine Perfect Step Picasso poi Parombred quindi via via gli altri con ancora Pick and Go e per un metro si rifà sotto anche Publilius 45 appena abbondanti i 600 di corsa quando si arriva al paletto di metà gara con il gruppo raccolto prova a spostare dalla corda ora Parombred 1-2 appena abbondanti un paletto in 17 per il leader che ora sarà costretto ad accelerare rimane lì in schiena Picasso poi la schiena di Parombred che è presa invece dal numero 4 Pick and Go chilometro in 1-16-9 con Perfect che per il momento tiene a bada gli avversari quando siamo all'imbocco della piegata conclusiva fiata le polveri ora con Perfect che prova a scappare da Parombred e da Picasso che rimane lì alla corda Pick and Go che si scopre in terza quando si va all'apice della piegata conclusiva con Perfect che è ancora leader con Picasso che cerca lo spazio per venir via lo trova ora Picasso LL che attacca sull'errore di Perfect Step Picasso che è passato all'esterno ci prova ancora Pick and Go nel finale Picasso LL che si distende su Pick and Go per un'ometro Picasso che nel finale si salva da Pick and Go per un'ometro SM 42-6 a chiudere 1-59 e mezzo il finale per Picasso LL Antonio Di Nardo al doppio Vincenzo Tufano al training abbondantemente sotto l'1.15 la media al chilometro con Picasso LL che trova spazio vitale all'imbocco della dirittura d'arrivo riesce a sopravanzare Perfect Step che sbaglia nel finale mantiene mezza lunghezza di vantaggio da Pick and Go che si era scoperto in terza corsia che si era scoperto in terza corsia che si era scoperto in terza corsia che si era scoperto in terza corsia